Amici di Corsi di MotoTV, finisco l'Eccicale qui a Isola dell'Iri dove il Sol Leone la sta facendo a padrone, terzo appuntamento del Virus Power CVS 2024, andiamo a vedere cosa è successo nella due giorni ciociara del CVS. Che festa il Virus Power CVS a Isola dell'Iri, una o due giorni di gare su uno dei tracciati più amati da tutto il Circus della Salita. La competizione, organizzata dal motoclub Castelliri Riders Socialia, capitanato dal presidente Gianni Scala, capace con tutto il suo staff di mandare in porto una manifestazione adrenalinica e vincente sotto tutti i punti di vista. Partiamo dalle gare che hanno interessato le moto d'epoca. Nel gruppo 5 TT250, Nicola Fungaro e la sua Cagiva 250 hanno vinto nella giornata di sabato. Alle sue spalle Mario Dolfi e Andrea Orselli. Proprio Dolfi si è rifatto la domenica, conquistando il primo posto, mettendosi dietro Nicola Fungaro e Andrea Orselli. Jacopo Vettori ha fatto l'unplan conquistando il gradino più alto del podio in entrambe le giornate nell'ambito della TT Sport. Vettori ha segnato per ben due volte anche l'assoluto dell'epoca, relegando al secondo e terzo posto prima Emiliano Giardini e Demo Antinori Petrini. E poi domenica ancora Petrini e per la prima volta sul podio Vincenzo Corbisiero su Kawasaki. Antonello Rossi, in sella alla sua ondina GP, ha colto dopo lo spino una doppia vittoria nella Two Strokes. Alle sue spalle Pazzaglia e Laureti. Podio questo che si è ripetuto esattamente anche in gara 2. Nella TT Twin il sabato ha segnato il successo di Alessandro Baldessari, davanti a Giuseppe Violano e Stefano Porretti. Mentre nella giornata di domenica è stato Stefano Porretti a conquistare il primato. Al secondo e terzo posto troviamo Alessandro Baldessari e Giuseppe Violano. Nel gruppo 4, epoca classe standard, primo posto per Andrea Orselli, che ha preceduto Salvatore Calabrese e Alessio Porretti. Cambio della guardia in gara 2, convegno da Frassini su Honda 125, primo, sul podio con lui Orselli e Calabrese. La Chrono Climber ha eletto Gianluca Girotto, in sella alla sua Triumph, vincitore nella classe 675. Alle sue spalle Francesco Mureddu ed Eugenio Lanzoni. Domenica invece è stato Leonardo Magrini a vincere, precedendo Eugenio Lanzoni e Gianluca Girotto. Ragnero Giusti e Vitas Frigobabbi, il primo su BMW e il secondo su Suzuki, si sono spartiti le vittorie nella classe 1350. Passiamo alle moderne, dove nella entry il pilota local Gabriele Rea su Piaggio Zip ha colto una doppietta memorabile. Rea, con il tempo di 1 minuto 25 secondi e 53, ha siglato in gara 2 anche il nuovo record di categoria. Sul podio con lui, nella 2 giorni Ciociara, Michael Gabriele, Emanuele Grappa e il campione in carica Daniele Fritz. Cioè ragazzi, questo giovane pilota ha fatto il record di sempre con lo scooter sulla isola di Rampino. Bravo Gabriele, è vero che sei pilota local, però la prestazione sia sabato che domenica è incredibile. Sì, per la prima volta che porto il 100 è stata una bella esperienza e l'ultima salita è stata veramente decisiva. Ho chiuso la vena e quindi è uscito un po' il tempo, anche se ho sbagliato due curvette. Due curvette, io adesso non vorrei dire cavolate, ma sei tipo a 6 secondi o più giù di lì dall'assoluto di Cianfarani con un Honda 600. Cioè comunque è vero che lo scooter è stato magari bene a questo tracciato, ma lì veramente gliel'hai ribaltato. Sì, beh diciamo che è pure una pista abbastanza favorevole, perché comunque è una curva dietro l'altra. Quindi diciamo nei scambi aiuta molto avere anche un mezzo abbastanza piccolino, però diciamo che ci siamo avvicinati un bel po' ai tempi dei grandi motociclisti. Con cosa corri di solito? Cioè che campionati fai? Sì, scooter, faccio qualche gara diciamo quando riesco del Polini con lo scooter 70. E quindi ecco qua ho provato questo 100 per fare un qualcosina in più. Qual è la soddisfazione di vincere nella gara di casa davanti agli amici, ai familiari? Qual è? Quanto è grande? Beh è abbastanza grande. Oddio, non... Diciamo, sapevo che correva un... Diciamo, per me, per battere il record più che altro, perché... Sì, ci sono anche altri però, diciamo, che... Io mi aspettavo, diciamo, di fare sto tempo. Quindi è andata bene. Comunque ringrazio tutti quanti i ragazzi del team che mi hanno aiutato molto. E un grazie a tutti. Io ti dico bravo perché ci hai fatto divertire veramente tanto. Grazie mille, grazie. L'Under si è confermata il regno esclusivo di Daniele Stolli, che in sella alla sua Yamaha ha preceduto sabato Marco Lombardi e Franco Federigi, mentre domenica il capo classifica ha battuto ancora una volta Marco Lombardi e al terzo posto Nicolò Nicoli. Stefano Manici e Roberto Abbate si sono divisi nella Naked Advent le vittorie sulla isola dell'Iri Arpino, con il primo che ha primeggiato in gara 1, mentre il pilota local su Ducati ha fatto sua gara 2. Alle spalle di Manici e Abbate, rispettivamente, Marco Giovannoni e Jacopo Vettori il sabato, mentre la domenica lo stesso Manici e ancora Marco Giovannoni. Amplè, manco a dirlo, nelle supermoto per Carmine Matarazzo, che in virtù del crono di 1 minuto 20 secondi e 0-3 ha stampato nella giornata di sabato anche l'assoluto per quanto riguarda le moderne. Sul podio, con il pilota Campano, prima Daniele Tuzzi e Bertolacci, e poi ancora Tuzzi e Massimiliano Carlo Musto, nella Super Open 600, festa grande in casa Cianfarani, con il pilota local, pupillo di Maurizio Bottalico, che non solo ha interrotto il dominio di Manuel Dalmolin, giunto comunque secondo, ma capace anche di siglare con il crono di 1 minuto 19 secondi e 39, l'assoluto del weekend. Il podio è stato completato, come detto, da Manuel Dalmolin, secondo, e dal pilota Ligure, Loris Guerrini, su Kawasaki, terzo. Il triunfatore del weekend, assoluto alla domenica con un tempone incredibile, ha, diciamo, rintuzzato l'attacco di Salvadori, con una moto nuova. Francesco Cianfarani, sei stato veramente il profeta in patria. Grazie, grazie. Sì, è veramente un onore per me ricevere questi complimenti. prima gara con questa moto, veramente, già la amo, perché si è comportata benissimo, è un CBR 600. Non correvo per l'assoluto, non ci ho mai pensato, è uscito da sé, è questo, ha tutto un altro sapore. E poi ti dico, adesso lo ricordiamo anche a chi ci segue da casa, cioè, tu le idee salite ne fai uno all'anno, è vero che corri su un tracciato di casa, però, sì, però, insomma, contro tutti gli altri che fanno veramente tutto il campionato, è una prestazione che vale doppio. Sì, sì, è ancora, ancora di più emozionante, sì che qui, diciamo, siamo a casa mia, però, anche, diciamo, a Volterra lo scorso anno siamo comportati bene, abbiamo fatto un terzo posto, secondi qui l'anno passato, e questo, diciamo, è un po' la cileggina sulla torta, diciamo, il podio lo abbiamo provato tutto, ecco. Toglimi l'ultima curiosità, come mai hai scelto l'Onda 600, cioè non è un modello così in voga tra le sportive, no? Ci sono modelli molto più gettonati, come mai è caduta lì la scelta? Ti dico la verità, diciamo, è stata un'occasione, e da quando l'ho visto ho detto, questa potrebbe fare a caso mio, e ricordo, diciamo, la scelta su di lei. Amore a prima vista, bravo Cianfarani, davvero bravo. Grazie, grazie, grazie mille, alla prossima. Luca Salvadori, per la prima volta in questo 2024, non è salito al CWS, sul gradino più alto del podio finale. A vincere infatti, nella Super Open 1000, è stato, nella giornata di sabato, David Linite, che, sulla sua Yamaha R1, ha regolato Francesco Piva, e lo stesso Salvadori. Luca poi, ha vinto la 1000 in gara 2, ma a causa di un taglio Cican, si è visto rifilare una penalità, che lo ha privato dell'assoluto. Alle spalle del rider del Broncos Racing Team, Francesco Piva, su Honda, e David Linite. Luca, non è che può sempre andare bene, è stato veramente un weekend complicato, no? Stamattina la pioggia, ieri, insomma, perso un po' di punti, queste cicche, anche, non sei l'unico a non digerire, però, se quando va male, comunque, la classifica regge, direi che, ci si può contentare, no? Alla terza gara, della tua vita in salita? Sì, allora, come al solito, qui, cioè, io conosco tutto gara per gara, allo spino mi era venuto proprio tutto più facile, perché riuscivo un po' a fare le cose da pista, invece qui, traiettorie obbligate, Cican, controintuitive, perché, non è che vengono messe all'estero in uscita, ma in interno, quindi dalla parte opposta dell'uscita, e mi ha proprio un po' scombussolato, sta roba qui, e soprattutto avendo poche salite, lo sai, l'errore è facile da fare, quando non hai gli automatismi, però sono contento, perché alla fine, classifica come dici tu, ci siamo, però l'assoluta oggi, proprio, ce l'avevo sotto il naso, e però, è un altro insegnamento, perché, insegna a non mollare mai, fino all'ultimo metro, cosa che invece in gara 2, ho fatto. C'è anche da dire, Luca, è un altro insegnamento, in realtà non per te, ma per quelli che ci guardano da casa, che, fino a qui, se era sembrato, no, e beh, c'è il Ducati, e Salvadori, in realtà, qui non è che dormono gli altri, quindi al minimo errore, al minimo weekend, un po' storto, bam, ti stanno avanti, consideriamo che Cianfarani, è un pilota local, che conosce il trazzato, come casa sua, però, mai abbassare la guardia davvero. No, ma più che altro, proprio, ha girato sempre tra il 20 e il 21, tutti i giorni, ho detto, vabbè, tranquilli, no, col 600, e invece, ha tirato la zampata, esattamente, nel momento giusto, all'ultima salita, dove tutti avevano la guardia bassa, è anche una sorta di strategia, se così possiamo dire, quindi, ci sta, e, sì, quindi, che dire, è andata così, e, soprattutto, abbiamo visto però che gli altri si sono avvicinati, Piva, ha migliorato molto il feeling con la sua moto, col nuovo bombardone, e, io cerco sempre di fare il meglio, ma con quelle 12, 13, 14 salite che si fanno, è un po' complicato. Adesso andiamo a, Spoletto ragazzi, ciao, ciao, nella categoria quad, podio in carta carbone, in gara 1 e gara 2, con Matteo Lardori, che ha continuato a incamerare punti pesantissimi, Lardori, infatti, ha siglato una bella doppietta, precedendo, Duccio Lardori, su Suzuki, e Giorgio Graffi, su Kawasaki, Gran finale con i Sidecar, dove l'equipaggio Barbie Bursi, ha avuto la meglio in gara 1, su Manfredi Pofi, e dal Biancolo da Dio, poi, Manfredi e Pofi, si sono rifatti domenica, regolando proprio Barbie Bursi, e dal Biancolo da Dio, si è chiuso così, il weekend ciociaro, della isola dell'Iri, Arpino, ora, c'è grande attesa, per la doppia gara di Spoletto, in programma nel weekend, del 19-21 luglio, quando, sulla famigerata Forca di Cerro, si sfideranno, non solo i rider, della serie Tricolore, ma in gara, scenderanno anche i protagonisti, del campionato continentale.